Kate Middleton e il principe William erano buoni amici prima che la loro storia d'amore sbocciasse alla St. Andrews University in Scozia e in quel momento Kate aveva una tecnica che usava quando si prendeva cura di William mentre era nei bar degli student molto prima di intraprendere una relazione romantica, il duca e la duchessa di Cambridge erano amici fermi mentre studiavano insieme all'università. I due andarono entrambi alla St. Andrews University in Scozia e si gettarono nella vita studentesca. Ciò significava visitare i famosi ritrovi studenteschi della città, dove, secondo quanto riferito, Kate vedeva spesso il principe William essere picchiato dalle ragazze mentre erano fuori a festeggiare insieme. Anche se all'epoca non erano un oggetto, Kate era molto vicina al principe e ha persino escogitato un trucco intelligente per aiutarlo quando le cose si sono fatte un po'. Imbarazzanti con i membri del sesso opposto, parlando con l'esperta reale Katie Nicole per il suo libro Kate, The Future Queen, la loro amica Laura Varshower ha detto, Will è stato davvero colpito da questa ragazza a una festa ed è stato piuttosto a disagio perché non riusciva a scrollarsi di dosso. Era davvero educato, ma questa ragazza semplicemente non ha capito. All'improvviso Kate si avvicinò dietro di lui e lo abbracciò, ha detto. Oh, scusa, ma ho una ragazza, e lui e Kate se ne sono andati ridacchiando. William era molto grato per il suo aiuto e, secondo Laura, in seguito le ha detto grazie mille. Ha detto, Kate era l'unica ragazza nella stanza che avrebbe potuto farlo. Ed è stato solo un mese dopo che abbiamo iniziato l'università. Tuttavia, Kate e William non sono rimasti amici a lungo, questo perché il loro stretto legame alla fine è sbocciato in una storia d'amore. La coppia ha iniziato a frequentarsi, rimanendo insieme durante i giorni dell'università e dopo la laurea. Nel 2007, Kate e William si sono lasciati brevemente e le fonti in seguito hanno affermato che la regina era rimasta delusa dalla rottura. Ma la separazione sembrava essere di breve durata poiché settimane dopo, William e Kate furono visti baciarsi a una festa dell'esercito nella caserma di Bovinton, nel Dorset.